Partiamo Umberto, buongiorno da Torre del Grifo, Lomonaco aveva detto a inizio settimana sì dobbiamo essere contenti per questa salvezza quasi raggiunta però non dobbiamo fare i salti di gioia perché questa squadra poteva e doveva fare di più. Abbiamo rivolto la domanda a Carboni su questa esternazione di Lomonaco e lui ci ha risposto in questo modo, sentiamo. Io penso che il primo oggettivo era arrivare a 40 punti, sicuramente che non abbiamo fatto un grande campionato però neanche un campionato scaso perché arrivare a tre giornate alla fine con 40 punti non è poco. Come sempre al giovedì invece è stato il turno di Diego Pablo Simeone, l'allenatore del Catania che ha parlato delle difficoltà che può creare la partita con il Brescia, ha detto dobbiamo pensare a queste difficoltà per giocare al meglio. Sentiamo proprio questa parte dell'intervista con Diego Pablo Simeone. Dobbiamo guardare noi, per noi è una partita importantissima alla quale dobbiamo arrivare sapendo di affrontare, andare a affrontare tante difficoltà che ci saranno, tante. Dobbiamo essere pronti a sapere che ci saranno delle difficoltà. Se andiamo pensando soltanto che andiamo a giocare una partita andremo con il pensiero assolutamente sbagliato. Le scelte infine del tecnico del Catania, fra poco sentiremo la formazione ma lui ha anticipato qualcosa nella conferenza stampa di giovedì con potenza al posto di Alvarez squalificato, poi ha parlato del centrocampo con l'assenza di Ledesma ma fondamentalmente ha detto stanno tutti bene nel Catania, anche i viaggianti, anche Isco e io devo pensare pure ai secondi tempi. Sentiamo. Se le vedi a tutti con voglia di giocare e l'importante è questo, in quanto al modulo evidentemente andrà un po' incontro a quelli nomi il modulo. Perché? Perché Maxi, Ricciuti, Lodi, Esquelotto, Vergesio, tutti quelli ragazzi che stanno giocando più tempo che gli altri evidentemente stanno tutti bene, però dobbiamo cercare un bilancio che ci faccia la squadra avere un po' di equilibrio e sapere che c'è un secondo tempo. È tutto da parte mia, la linea può tornare allo studio. A te Umberto.